77 artisti provenienti da 21 paesi, la dodicesima edizione della Biennale d'Arte Contemporanea di Lione apre le porte sulle rive del Rodano. Cinque siti differenti nella città francese ospitano centinaia di opere e progetti. Thierry Raspail, direttore artistico. Sì, nel rinascimento e la pittura figurativa si racconta la stessa storia, soltanto che allora era una storia religiosa, oggi ovviamente si tratta ancora di narrazione, ma nuove forme di narrazione che si avvalgono della simultaneità, di inversioni, di nuove tecnologie, sono nuove forme di narrazione che corrispondono ad un mondo, il nostro, fatto di flussi e sovrapposizioni. Intanto, all'improvviso, poi. E' questo il titolo scelto per l'edizione 2013 della mostra lionese, tra i tanti artisti spica il nome di Yoko Ono, presente con le sue performance. In fin dei conti, l'arte è sempre legata ad un racconto. Ogni artista con il proprio linguaggio bisogna solo guardare ed ascoltare con attenzione per comprendere la storia.